Sì che era quel centrale che avevamo? Secondo me ha strappato via quello che avevamo lasciato qua. Esce qualcosa? Adesso si esce. Bravo! E adesso però bisogna... Allora riempie che questo e via. Se è putto sto porro. E' tutto qui all'inizio, va con la rosaria. Eh, questo c'è ma... Ma è sballato, vado. Vediamo. Aspetta eh, che adesso succede questo qua. Adesso sul quel inca che mette i venti botti. Ci piace molto. Sono lunghi. Eh, meglio. E tutto al fondo non tira? No, no, no. Non puoi mettere dentro. Va bene, va bene. Ma va, tira sì, non stai scherzando. Se questo qui dopo passa nel fondo non tira più. Ah, va dentro. Sono lunghi un chilometro i botti. Sono ampelati. E volevo tirar su le brugole che c'erano sul furgone, no? Le ramelle. Sì, ma non scappa. Dai, quando è dentro bloccato così, non scappa lo stesso. E se questo è tutto il fondo del buco... No, fa in tempo, era profondissimo. punto di posizione su. Sì, sì, sì. Adesso possiamo beccacare dove sono, eh. Sotto qua. Sotto qua. Sotto qua. Sotto qua. Andate, no? Anche questo, andate. Sotto qua. Sotto qua. Una, un po' l'ora. un po' più lunghi però e non più di quel tante appoggiata la strada lo tirerà fuori fino a un certo punto fino a quando lo tira lì e dopo dopo da sgastro e sforza ci hanno beccato ci hanno beccato vieni che viene indietro e sposa fino a lì ma dopo deve fermarsi vedi che si è fermato slargare e slargare un po' tirare e tira giusti anche tasselli più piccoli ma giusti però ho tirato eh però ho tirato questo sembra dentro storco e sembra che tira anche lui perché si è già piegato eh lo tira fuori anche lui questo bastardo è già andata bene che sei insiantata là ma ho tirato fuori la prima volta che l'era dentro la costa la mia tan grosita sei ma è veramente sai qua cosa bisognava fare che non abbiamo mai pensato il fare una lamiera con i ganci da appoggiarle lassù no ho senote due tasselli là i piedi eh ma è più facile la lamiera che così l'acqua gli passa sopra non si incastra dentro nei legni né sassi non la strappa è come se gli passasse sotto uno scivolo veniva a fare una roba del genere quello non tira eh no tira quello la tira quello la anche lui un po' e mette cibo che hanno preso tutte e due dopo la riempiamo lì di chimico ormai di temporale non dovrebbe starmi più si si oh per quest'anno eh i garetti se va avanti così gran disastro sarà